cari amici di radomaria buona giornata a tutti sulle 9 e 2 minuti di mercoledì 12 aprile 2023 pace e gioia a tutti voi cari amici in ascolto e che la luce della parola di dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità del bene sulla via della pace andiamo al nostro programma la lettura cristiana della cronica della storia oggi cari amici volevo fare una breve riflessione con voi sul ruolo della madonna sul compito della madonna sulla presenza della madonna in questi giorni che abbiamo vissuto della pasqua cioè dal giovedì santo fino alla mattina della resurrezione perché ovviamente di tutto questa di questa lunga di questa presenza la madonna a fianco di gesù perché non c'è dubbio che la madonna ha accompagnato gesù a gerusalemme la madonna sapeva qual era il disegno del padre che il figlio ha accettato e per la rivenzione del mondo e che passava attraverso l'umiliazione la condanna a morte la tutta la passione della crucifissione la sepoltura e poi la resurrezione la madonna era totalmente a corrente del piano divino era corrente e l'aveva capito e d'altra parte la madonna stessa diciamo era inserita come protagonista in questo piano della redenzione operato dal figlio cioè il piano della redenzione è un'opera trinitaria cioè il padre che invia il figlio il figlio che come frutto della redenzione ci dona lo spirito santo madonna è protagonista dell'opera della redenzione ora sicuramente si può anche riflettere sul significato delle parole certamente il redentore gesù cristo il verbo si è fatto carne ha assunto una natura umana con un corpo e un'anima l'anima di cristo ha una volontà umana unita alla volontà divina in dio c'è una sola volontà una sola volontà divina e una intelligenza umana il figlio ha unito all'intelligenza divina in dio c'è una sola intelligenza divina e però in gesù cristo c'è diciamo così una natura umana con un corpo un'anima le quali facoltà dell'anima ma l'io l'io di cristo è proprio l'io sono di yahweh cioè l'io divino della seconda persona della santissima eternità quindi ho fuori dubbio cari amici che l'opera della redenzione sia un'opera divina ma se non fosse tale non potrebbe essere una redenzione perché l'uomo non può redimere se stesso comunque anche la madonna è stata redenta non dimentichiamolo anche la anch'essa è la figlia di eva i suoi progenitori santale san gioachino l'hanno concepita attraverso un normale rapporto fra due sposi anche se possiamo ben dire miracolosamente in quanto ambedue come ci dice la tradizione avevano superato l'età della fecondità però comunque la madonna è stata concepita ma e qui il punto descrivinante rispetto a tutte le altre creature umane è stata preservata dal peccato originale è stata preservata come dice diciamo il documento col quale è stata proclamata immacolata cioè esente al peccato originale del papa pio nono in vista dei meriti di cristo quindi anche madonna è stata redenta quindi non c'è dubbio che il redentore sia uno solo che è gesù cristo che è gesù cristo il redentore sia redenti con la sua incarnazione con tutta la sua vita anche quando era nel grembo materno anche quando era un embrione cioè tutto il percorso umano che ha fatto il verbo unito alla sua umanità l'umanità che ha assunto ha un significato di redenzione anche tutta la vita che ha trascorso a nazareth ha un significato di redenzione ma in particolare ovviamente la sua vita pubblica la sua missione apostolica il suo annuncio del regno di dio tutto ciò che raccolto nei vangeli e poi quelle non so quante ore sono possiamo fare dei calcoli io sono diciamo così una sono un stimatore del film la passione di mel gibson e anche perché per i frutti spirituali che sono venuti prima di tutto chi ha fatto questo film e a chi la e a chi ha vissuto come protagonista che ginka visual fratti questi due bravi testimoni della fede cristiana stanno operando per completare una seconda opera che è quella della risurrezione e appunto ho sentito proprio raccontando leggendo ascoltando anche le testimonianze di cavizio che loro hanno rinchiuso le ore l'evento della redenzione specifico cioè dalla dal giovedì notte sul 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 gizemani è lì che comincia il film fino alla resurrezione sono venti ore in venti ore è stato l'evento del mondo e quelle venti ore l'inferno si è spalancato ha vomitato tutto il suo odio contro Cristo e Cristo si è assunto sulle sue spalle i peccati del mondo li ha spiati col suo amore cioè ha bruciato l'odio l'incredulità la cattiveria delle porte dell'inferno contro Dio contro Cristo e tutti i seguaci ovviamente li ha trasformati in amore col suo amore quindi che metto il perdono al padre padre perdona loro perché non sanno quello che fanno i frutti di questo sacrificio li abbiamo visti anche immediatamente dopo la pentecoste a ogni predica di Pietro era un pescatore si convertivano migliaia di persone 5.000 la prima volta 3.000 la seconda contando solo gli uomini è una cosa straordinaria questo per dire cari amici la potenza di grazia che si è sprigionata da questa divina redenzione del mondo che opera di Cristo però però noi però adesso non mi piace giocare con le parole cioè io non sono mai entrato nella disputa se usare la parola corredentrice applicata alla Madonna oppure no sappiamo che persone osanti anche persone di grande rilievo anche san giovanni parlo secondo qualche volta ha usato la parola corredentrice sappiamo che la chiesa cattolica ha preferito usare cooperatrice all'opera della redenzione così adesso rispondo anche a tanti me con i tanto mi arrivano io non sono mai entrato in questa disputa perché mi sembra una disputa di carattere linguistico mi interessa invece la sostanza cioè non c'è dubbio che l'opera della redenzione sia un'opera divina ma in questa opera divina ha un posto unico assoluto irrepetibile straordinario la Vergine Maria e quindi noi dobbiamo cercare di capire questo ruolo della Vergine Maria nell'opera della redenzione che continua tuttora perché l'opera della redenzione non è finita e si compirà con la venuta del Cristo nella gloria perché Cristo ha redento tutti gli uomini tutti i tempi poi però l'opera della redenzione deve essere diffusa per mezzo della chiesa e Maria è proprio una delle protagonisti è la protagonista in assoluto possiamo dire della diffusione della grazia della redenzione lungo il corso di secoli specialmente oggi con questa presenza così lunga e così piena di amore per l'umanità in generale per la chiesa in particolare quindi non sto a discutere cari amici non mi va non tiratemi dentro questa cosa se chiamarei Maria corredentrice o altro io in obbedienza alla chiesa la chiamo cooperatrice dell'opera della redenzione però quando diciamo queste parole cerchiamo di capire il significato cioè la Madonna è entrata nell'opera della redenzione consapevolmente con una grazia speciale dello Spirito Santo nel momento dell'annunciazione cioè la Madonna ha compreso pienamente nella luce di Dio cosa volesse dire conciperai un figlio e lo chiamerei Gesù lo conciperai per roba dello Spirito Santo questo figlio sarà chiamato Santo e il figlio di Dio quindi il sì di Maria umile e coraggioso a questa maternità nel momento dell'annunciazione che comportava anche per lei la possibilità del martirio perché nella tradizione ebraica le donne che concepissero un figlio già promessa sposa poteva essere lapidata quindi giustamente gli esegetti cominciano a mettere in evidenza che il sì di Maria è stato un sì con un coraggio grandissimo una dosione totale senza sì e senza mai condizionata irrevocabile alla maternità divina nel senso che il figlio che concepiva era il verbo generato dal padre lo concepiva per roba dello Spirito Santo quindi una maternità divina il suo sì incondizionato quindi la Madonna è entrata nel piano della Santissima Trinità come nessun altro né dell'Antico Testamento né del Nuovo Testamento potuto avvicinarsi a un ruolo così altissimo e la Madonna la Madonna ha capito per grazia dello Spirito Santo di cui è sposa come giustamente dicono tanti autori la Madonna sposa dello Spirito Santo lei ha capito il suo posto nella storia della salvezza il suo posto inavvicinabile da nessuno il suo posto unico e ineguagliabile che è stato quello di accompagnare il Redentore per tutto il corso della sua vita quindi nel suo grembo virginale per nove mesi l'ha partorito nella stalla di Betlemme come ama dire Papa Francesco come profuga noi possiamo dire come perseguitata è fuggita con San Giuseppe in Egitto è ritorna dopo sette anni insomma poi l'oscurità la normalità la quotidianità della casa di Nazareth dove lei è stata discepola del figlio perché se da una parte ovviamente i nostri genitori di Maria e Giuseppe umanamente hanno svolto il loro compito di padri e di madri di padre San Giuseppe e di madre Maria però nel medesimo tempo è stato Gesù che li ha formati ed educati alla comprensione del piano divino della redenzione perché lo dimostrava il fatto quando Gesù è stato ritrovato nel tempo in mezzo ai dottori lui ha detto non sapevate voi che io devo attendere le cose del padre mio quindi Gesù è stato il maestro è stato scolaro sulle cose umane ma maestro sulle cose divine in tutto il tempo in cui Gesù è rimasto nella casa di Nazareth poi abbiamo dei testi meravigliosi di opere straordinarie di mistici che ci raccontano o mistiche che ci raccontano questa come dire educazione questa educazione di Maria nel suo ruolo della storia della salvezza e quindi Maria ha seguito Gesù nell'opera delle evangelizzazioni con un ruolo fortissimo di discepola sì come ammattire Papa Francesco ma anche di maestra degli apostoli come emerge chiarissimo dalle nozze di Cana dove lei che porta il figlio a fare il miracolo che aiuterà gli apostoli ad aprirsi alla fede in lui figlio di Dio e ventuno del mondo e accompagna il figlio in tutti i tre anni di vita pubblica discreta presente insieme alle pie donne a proteggere il figlio a proteggere gli apostoli e a svolgere la sua missione di apostola di missionaria non ci rimangono tante parole ma diciamo la vediamo sempre presente in tutti i grandi appuntamenti in particolare quello della passione è quello che cari amici che bisogna capire che bisogna capire ma non si capisce per grazia dello Spirito Santo è che la Madonna ha vissuto in se stessa come madre la passione del figlio cioè come il figlio ha detto sì alla volontà del padre padre non passi da me questo calice chiede che passi da lui questo calice poi di fatto dice sia fatta la mia la tua non la mia volontà umana ma la Madonna ha detto sì a quel calice cioè come il padre ha detto sì al sacrificio del figlio così la Madonna ha detto sì al sacrificio del figlio cioè la Madonna ha accompagnato il figlio tutta la notte del giovedì santo la notte dei tradimenti dei rinegamenti delle paure delle false accuse della durezza dei giudizi delle bestemmie l'ora di Satana il giovedì santo alla sera l'ora di Satana la Madonna era presente assisteva vedeva e c'è da pensare come giusto bello il cioè bello il film di di Mel Gibson che quando Gesù guarda Giuda quando Gesù guarda Pietro e Pietro si ravvede e fugge da chi fugge ? da la Madonna fugge nelle braccia di Maria che lo porta al cenacolo e lei la protagonista umana della passione Gesù è il protagonista divino ma lei era protagonista umana cioè lei ha detto sì al sacrificio del figlio lei non ha chiesto al padre che il figlio fosse preservato ha chiesto al padre che sia fatta la sua volontà lei ha aderito totalmente e quindi anche i piedi della croce durante tutto il cammino del calvario ovviamente ai piedi della croce la Madonna ha detto sì lei ha celebrato in qualche modo la sua messa ha offerto al padre il figlio in sacrificio d'amore per la salvezza del mondo si è offerta a lei stessa col figlio perché il mondo fosse redento e ha accettato il compito che il figlio le ha dato della maternità universale per cui la Madonna è la madre di Cristo la madre della Chiesa la madre dell'intera umanità è la nuova Eva e poi cari amici quando il figlio è risorto sale al cielo lei è la madre della Chiesa qui sulla terra che la sostiene la conferma la dirige con la sua preghiera con la sua sequela vivendo quello che Gesù ha detto e della presenza di Maria che spiega ovviamente Maria con il dono dello Spirito Santo legge della Pentecoste che spiega la trasformazione degli apostoli quindi la Madonna man mano come dice San Giovanni Paolo II progredendo nella fede ha compreso il piano divino accanto al figlio ma anche il piano divino come madre della Chiesa come regina accanto al figlio per cui è presente in tutta la storia della Chiesa come missionaria come come dire come fonte di grazia di protezione di speranza e lo è soprattutto oggi per l'intera umanità la Madonna è oggi quella presenza per cui noi guardiamo al futuro con serenità con la sicurezza della vittoria allora voi chiamatela come volete io dico è cooperatrice all'opera della redenzione come nessuno potrebbe mai immaginare ma cerchiamo di capire già tutto questo e non stiamo lì a litigare se è co-redentrice o è cooperatrice o altre cose sono diciamo così sono contraproduzioni verbali ma la cosa più importante è capire il suo ruolo come dice il catechismo della chiesa cattolica assolutamente unico straordinario e operante tutt'oggi nell'opera della redenzione per cui le potenze dell'inferno che vuol distruggere l'opera di Cristo non prevarranno la sua presenza la sua potenza di intercessione la sua fonte di grazia ci porteranno al tempo nuovo della pace questo caro amici è quello che volevo dire e quello che ho capito e spero di capire sempre meglio il ruolo di Maria nella opera della salvezza da parte mi ricordo di aver letto una volta una pagina di un teologo rinomato che è Monsignor Bruno Forte mi ricordo di aver letto un suo libro nel quale diceva che comunque la Madonna è il crucivia di tutti i dogmi della fede come è vero bene carissimi adesso giriamo pagina vediamo vorrei cari amici adesso nella pagina dedicata all'Italia sorvolarmi sul fatto di cronaca che ha fatto parlare molto in questi giorni per farci un piccolo commento dunque come sapete ha fatto parlare di sei giornali poi è diventato un caso nazionale il fatto che una maestra io non ho letto molto le croniche non sono fatte in particolari mi fermò l'essenziale ovviamente avendo fatto dire un avemaria in classe ai ragazzi ci sono state due mamme tutte le altre si sono mostrate solidali con la maestra siamo in Sardegna due mamme hanno fatto un rapporto il preside il quale ha fatto un rapporto ai suoi superiori per cui si sono date a questa maestra delle delle penalità molto forti invocando diciamo la lecità dello Stato e cose di questo genere allora ovviamente non voglio entrare nella polemica voglio semplicemente prima di tutto leggervi quello che è una posizione a mio parere sotto il profilo culturale assolutamente ineccebibile che è stata quella manifestata dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi uomo come sapete di grande preparazione culturale il quale è andato in Sardegna per incontrare la maestra sospesa per l'Ave Maria sto prendendo da un sito internet che si chiama Open Line ce ne sono tanti altri ho preso il primo che ho trovato e Sgarbi ha detto ma quale fanatica questa maestra insegna i valori fondanti della nostra civiltà l'abuso dice sempre il sottosegretario è solo di chi ha stabilito sanzioni con accusa senza fondamento ha detto il sottosegretario della cultura che ora invoca un'ispezione ministeriale allora leggiamo questo commento su cui io voglio fare un commento ma non un commento diciamo così dozzinare un commento di quelli che fanno pensare allora il sottosegretario della cultura Vittorio Sgarbi ha incontrato oggi lunedì 10 aprile oggi 12 come sappiamo Marisa Francescangeli la maestra sospesa ai primi di marzo con riduzione dello stipendio dall'ufficio scolastico regionale della Sardegna per aver fatto recitare l'Ave Maria ai suoi alunni l'ho interrogata dice Sgarbi ho scoperto che era assolutamente colpevole di quello che ha fatto ha detto il critico d'arte e cioè insegnare gli stessi valori su cui si fonda la nostra civiltà cioè è colpevole di aver insegnato gli stessi valori su cui si fonda la nostra civiltà solo pochi giorni fa Sgarbi era intervenuto con un video sui social a favore dell'insegnante chiedendo al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara di revocare la sospensione e il dimezzamento dello stipendio poche ore fa a Oro 6 in nessuna esaltazione o in nessun fanatismo ha detto raccontando il dialogo avuto con la maestra queste parole le parole di Sgarbi semplice è stato il mio dialogo con lei efficace e determinata l'abuse soltanto di chi ha stabilito sanzioni con accuse senza fondamento secondo Sgarbi ogni contrapposizione fra laicismo e religione è contraddetto da Benevetto Croce come sapete un grande filosofo un grande uomo di cultura napoletano non credente ma che aveva detto noi comunque non possiamo non dirci cristiani che se non siamo credenti anche se siamo laici allora secondo Sgarbi ogni contrapposizione fra laicismo e religione è contraddetta da Benevetto Croce cui l'insegnante si è ispirata e cioè non possiamo non dirci cristiani a Benevetto Croce una questione che il sottosegretario definisce culturale prima che religiosa quanto a Rosario che la docente ha fatto recitare i bambini nessuno dimentica che l'ha introdotto in politica Matteo Salvini ha ricordato Sgarbi il critico d'arte ha fatto anche sapere che la conversione è avvenuta con Marisa Francescangeli è stata anche trasmessa al ministro Valditara cioè ha mandato una relazione del suo dialogo con la maestra perché quando il ministro aveva sentito soltanto la voce di chi praticamente ha portato poi a delle sanzioni dunque il critico d'arte ha fatto anche sapere che la conversazione avvenuta con Marisa Francescangeli è stata anche trasmessa al ministro Valditara che evidentemente fin qui conosciuto soltanto una relazione parziale che non restituisce la personalità della maestra che non restituisce la personalità della maestra cioè che praticamente la presenta come una bigotta quando invece un uomo ha una donna molto come lei come dice Sgarbi è una donna che ha preso la posizione culturale prima che religiosa poi a conclusione l'invito credo che a questo punto sarebbe necessaria un'ispezione ministeriale allora cari amici io faccio una una riflessione chiamatela come volete chiamatela come volete perché ormai queste distinzioni fra religione laico laicismo tutte che le cavolate lì di fronte alla situazione del mondo non hanno più senso soltanto i deficienti cioè quelli deficienti devo dire mancare mancano di prospettive e non riescono a capire che siamo alla vigilia della catastrofe mondiale siamo alla vigilia come giustamente ha detto perfino Kirill siamo alla vigilia di un'armageddon l'ha detto per la verità un altro esponente che lì l'ha detto siamo alla vigilia della fine del mondo ha detto siamo alla vigilia della fine del mondo siamo alla vigilia del magheddon non sappiamo se quando andiamo letto la sera se saremo vivi il mondo si sta armando per la sua autodistruzione la madonna è qui da 42 anni per preservarci dalla catastrofe totale ovviamente è la madonna che ha detto l'umanità ha deciso per la morte l'uomo moderno non vuole Dio e va verso la perdizione ma chi va verso la perdizione tutta l'umanità va verso la perdizione tutta l'opera della creazione tutta la terra siamo appesi a un filo siamo alla vigilia dell'impensabile ma che diventa ineluttabile nel medesimo tempo c'è un mondo che si è ribellato a Dio che ha negato Cristo che ha negato la fede che ha negato la croce che non lo vuol saperne di Dio che si contrapone a Dio che ha scelto per il demonio che ha scelto per la catastrofe perché la parola demonio è uguale morte cioè Satana vuole la nostra morte la catastrofe atomica vuole vuol distruggere le nostre vite e pianità su cui viviamo chiaro l'ha detto la madonna tre volte e poi ha anche detto ma Dio ha mandato a me per salvare le vostre vite il pianeta sul quale vivete quindi la prescrizione che vi ho fatto non è immaginaria non è catastrofissima è reale realissima e Satana sciolto dalle catene e il mondo ha peso un filo dunque mi volete dire per cortesia chi ci tira fuori da questa da questo abisso nel quale stiamo volando dentro siamo già volati dentro a velocità ipersonica cioè chi ci salverà dalla catastrofe imminente che è già operativa che sta allargandoci fino a diventare un'esplosione che ci divorerà tutti chi ci salverà da questa catastrofe chi fate il giro di tutte le persone che conoscete fate il giro delle grandi capitali del mondo da Mosca a Pechino a Washington a Parigi a Londra a tutto quello che volete fate il giro dei santoni di questo mondo fate il giro dei cultori di questo mondo dei profeti di questo mondo fate il giro di tutti secondo voi chi ci salverà dalla catastrofe imminente chi c'è qualcuno che vuole lasciare la mano ci salverà l'ave maria fra non molto non credo che passerà qualche anno quando incomincerà il primo ad avverarsi il primo segno di Međugorje che riguarda proprio la città di Međugorje la recita dell'ave maria si diffonderà come una marea irrefrenabile su tutta la terra incominciando dall'Italia tutti quelli che vogliono salvarsi a chi si rivolgeranno all'accordo costituzionale per sapere se si può dire ave maria o pia no tutti tutti grideranno l'ave maria quello la sanno tutti diranno ave maria dall'inizio della giornata fino alla sera anche di notte tutti andranno in giro con la corona del rosario per evitare la catastrofe imminente questo è quello che succederà fra non molto non fatevi illusioni succederà ma certo che succederà succederà che il mondo sarà salvato dalla Madonna sarà salvato da chi prega l'ave maria e si salveranno quelli che pregano l'ave maria e quelli che non si afferrano all'ave maria precipiteranno nell'abisso perché rifiutano l'unica possibilità di salvezza che Dio ha dato al mondo l'ave maria l'ave maria la Madonna l'ave maria è la Madonna è la piena di grazia che prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte morte dell'umanità è lei che ci salverà quando avete la Madonna a lui di Ubat quando non ci sarà più nessuna speranza ecco che io ci sarò allora io dico dico a quelli che come dire pensano di essere al sicuro non siete al sicuro è al sicuro chi crede chi dice l'ave maria e che si mette sotto il manto di Maria quelli sono al sicuro tutti gli altri non so che cosa accadrà non so chi li salverà dalle fauci del drago bene questo è quello che volevo dire a commento poi voi prendete nota e vedremo fra non molto credo perché credo che arriveremo alla fine di questo decennio assolutamente no e adesso cari amici andiamo ancora adesso andiamo avanti questa era la pagina italiana e andiamo a vedere uno degli attori uno degli attori del caos internazionale che è sicuramente la Russia non è solo attori gli attori del caos internazionale sono soprattutto due sono Mosca e Pechino che sono alleati per cambiare il mondo ovviamente gli altri che hanno una posizione preeminente come l'occidente non ci stanno quindi non salvo certamente l'occidente che come ha detto la Madonna ha sviluppato un mondo nuovo senza Dio diciamo come se lui non fosse il creatore quindi praticamente possiamo ben dire che Satana gioca su tutti i tavoli non c'è nessun tavolo dove Satana non sia presente per quello che la Madonna ha detto che Satana regna però siccome leggiamo stamattina un articolo che riguardava il Kazakistan che è un paese bellissimo mi ricordo quando il Papa è tornato dal Kazakistan si è spesso in termini stupiti della bellezza di questo paese che è il nono paese del mondo per estensione si trova in si trova in Asia che ha un lungo confine di migliaia di chilometri con la Russia e che dicono appunto i giovani del Kazakistan temono che non appena è finita la Polonia se dovesse vincere la Russia in Ucraina toccarebbe al Kazakistan e quindi la Russia profitterebbe per alletterselo insieme agli altri paesi del centro Asia che hanno ottenuto l'indipendenza come Kirghizistan come altri paesi ma il Kazakistan è l'appetito numero due il boccone numero due dopo il primo che l'Ucraina e quindi è chiaro che siamo all'amicizia di grandi sconfuggimenti tanto è vero io ho mai creduto all'amicizia tra Pechino e Mosca è un'amicizia di comodo adesso ma in prospettiva è in prospettiva sono sono antitetici di fatti Xi Jinping facendo un viaggio non so dove è passato per il Kazakistan la capitale Astana e lì ha detto che la Cina è in qualche modo interessata ad assicurare al Kazakistan la sua indipendenza la sua inviolabilità cioè praticamente ha fatto sapere a Putin che il Kazakistan non lo può toccare dunque voglio dire c'è una un clima diciamo di 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 restaurazione dell'esimpero sovietico sia in Europa sia in Asia che poteva portare una catastrophe mondiale in breve tempo dico questo perché comunque non bisogna mi è piaciuto molto quello che ha detto il Santo Padre quando ha parlato nel giorno di Pasqua a mezzogiorno facendo una una panoramica della situazione mondiale quando il Papa ha detto ho pregato a Dio che illumini il popolo russo perché comunque il popolo russo è una cosa la quale classe politica è quella di una volta quella sovietica quindi l'unica cosa che è cambiata è la loro alleanza con la religione insomma tutto lì ma ha fatto bene a dire questa espressione il Papa perché effettivamente in Russia c'è una resistenza c'è sempre stata già il tempo diciamo così dell'impero sovietico c'era una resistenza ma c'è anche attuale una resistenza molto interessante qui voglio leggervi una paginetta per dire che giustamente non si può fare da ogni erbo cioè io non lo faccio perché so che alla fine di questa tragedia nella quale siamo interati il popolo russo si convertirà e voglio dire che la parola convertirsi detta alla Madonna vuol dire entrare nella chiesa cattolica cioè quando ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria il popolo russo entrerà nella chiesa cattolica è chiaro voi che volete andare nella chiesa ortodossa voi cattolici che volete andare nella chiesa ortodossa leata di quel sanguinario del cremerino sappiate che il popolo russo alla fine entrerà nella chiesa cattolica allora vediamo cosa ha detto questo oppositore al tribunale dal quale è stato condannato a 25 anni si chiama Cara Murza è una personalità di rilievo e vi leggo la sua ringa al termine del processo molto interessante ti rivolgi ai membri della corte e dice ai membri della corte dopo due decenni trascorsi dalla politica russa dopo tutto quello che ho visto e vissuto ero sicuro che nulla potesse più sorprendermi devo ammettermi che mi sono sbagliato sono stato sorpreso dalla misura in cui il mio processo nella sua segretezza e nel suo disprezzo per le norme giuridiche ha superato persino i processi dei dissidenti sovietici negli anni 60 e 70 cioè praticamente il regimo di Putin è peggio di quello dei regimi sovietici negli anni 60 e 70 senza contare la durezza della pena richiesta dell'accusa o il discorso sui nemici dello Stato in questo senso siamo andati oltre gli anni 70 fino agli anni 30 per me come storico questo è un'occasione di riflessione cioè praticamente il regime di Putin ha superato il regime oppressivo di Putin ha superato quelli del passato negli anni 60 e 70 fino agli anni 30 a un certo punto dice lo dice davanti ai giudici a un certo punto durante la mia testimonianza il giudice che presedeva il processo mi ha ricordato che una delle circostanti attenuanti era il rimorso per ciò che l'imputato ha fatto cioè il giudice ha detto ecco l'imputato però si è pentito di quello che ha fatto cioè ha criticato il regime di Putin invece non era vero ebbene e sebbene ci sia poco da divertente nella mia situazione attuale non ho potuto fare a meno di sorridere di fronte a questa affermazione il criminale ovviamente deve pentirsi delle sue azioni io sono in carcere per le mie idee politiche non perché sono un criminale sono in carcere per essermi espresso contro la guerra in Ucraina per aver lottato per molti anni contro l'abitatura di Vladimir Putin per aver facilitato l'adozione di sanzioni internazionali e personali nell'ambito del Magnitsky ECT quando chi viola i diritti umani non solo non mi pentio di tutto questo ma ne sono orgoglioso sono orgoglioso che Boris Nemstosov mi abbia portato in politica e spero che non si vergogni di me sottoscrivo ogni parola che ho pronunciato e ogni parola di cui sono stato accusato da questo tribunale quindi conferma tutto mi rimprovero solo una cosa che negli anni della mia attività politica sono riuscito a convincere un numero sufficiente di non sono non sono riuscito a convincere un numero sufficiente di connazionali dei politici dei paesi democratici del pericolo che l'attuale regime del crimino rappresenta per la Russia e per il mondo questa è la voce libera di un russo che parla davanti a un tribunale e dice che mi dispiace che non sono riuscito a convincere tanti che vivono nei paesi democratici specialmente in Italia del pericolo che rappresenta per il mondo in questo momento l'attuale regime del cremelino nelle ultime dichiarazioni al tribunale gli imputati vi saluto chiedono la soluzione per una persona che non ha commesso alcun crimine la soluzione sarebbe l'unico che ha detto giusto ma io non chiedo nulla a questa corte conosco il verdetto l'ho capito un anno fa quando ho visto nello specchietto retrovisore persone in forme nera e con maschere nere che correvano dietro la mia auto questo è il prezzo da pagare per ballare in Russia oggi cioè 25 anni per dire quel che pensi ma so che arriverai ecco qua la profezia una profezia naica che si appaia quella della Madonna che dice che alla fine lui c'è un segreto di Fatima la russa si convertirà e dice ma so anche che arriverà il giorno in cui le tenebre sul nostro paese si dissolveranno i giorni in cui il nero si chiamerà nero e il bianco si chiamerà bianco i giorni in cui a livello ufficiale si riconoscerà che due per due fa quattro i giorni in cui una guerra si chiamerà guerra e un usurpatore usurpatore e quando saranno riconosciuti come criminali coloro che hanno acceso e scatenato questa guerra piuttosto che coloro che hanno cercato di fermarla questo giorno arriverà inevitabilmente come la primavera che segue anche l'inverno più freddo e allora la nostra società aprirà gli occhi e sarà inorridita dei terribili crimini commessi per conto suo ed è per quello che alla fine si convertirà in popolo russo perché aprirà gli occhi e si renderà conto dei crimini commessi per suo conto questo lo dice un dissidente russo una voce libera una profezia straordinaria e lo dice soprattutto a quelli che sotto sotto alla fin fine ben volentieri prenderebbero in mano il tuo libro per incelsare il patriarca di Mosca da questa consapevolezza da questa riflessione inizierà il lungo difficile ma vitale cammino verso il recupero e la restaurazione della Russia il suo ritorno alla comunità dei paesi civili arriverà tutto questo ma non appoggiando il regime attuale che sta portando il mondo alla distruzione anche oggi anche nell'oscurità che ci circonda anche seduti in questa gabbia amo il mio paese e credo nel suo popolo credo che possiamo percorrere questo cammino questi amici credetemi se ci sono queste persone in Russia è per quello che un domani la Russia si sbarazzerà dell'attuale regime sanguinario illuso da una volontà di potenza che alla fine si risolverà in una catastrofe bene questo dunque era un articolo che ho preso dal foglio ma non è un articolo è semplicemente la ringa che ha fatto in difesa di se stesso un dissidente che si è preso 25 anni di galera per avere espresso lo so contrarietà alla guerra in Ucraina ha fatto anche una profezione sul popolo russo che mi sembra che sia molto molto in sintonia con quella che ha fatto la Madonna a Fatima e poi anche a Međugorje cioè che col trionfo del suo cuore immacolato il popolo russo si sarebbe convertito bene carissimi adesso andiamo avanti questo dunque era un bel articolo che ovviamente lo metterò sul blog perché per testimoniare che si può amare il popolo russo senza amare l'attuale regime di persone montate ciò non voglio dire che gli altri sono migliori si possono dare la mano tutto sommato allora adesso cari amici andiamo al blog vediamo che ore sono sì c'era quella lettera della Nicoletta di Palermo che dice padre mio ho la sensazione che la gente si sia scoraggiata e che ormai in qualche modo si stia rendendo alla potenza del male e al nichilismo anche il papa aveva messo in guardia da questa tentazione vediamo cosa ho risposto io cara Nicoletta la tua sensazione reale credo che la sentono i molti la potenza del male che opera nel mondo è ormai visibile a tutti eppure già all'inizio del covid la madonna ci aveva munito che Santa la vuole distruggere le nostre vite e per le da su quale viviamo tutto questo procede con una celerità irrefrenabile che trascina le persone come foglie in balia del vento la gente si rende conto che la situazione è sfuggita di mano e che precipita lungo la caleggiata ne consegue un clima generale di incertezza e di angoscia per le cose che dovranno accadere come dice il Vangelo siamo intanto nel tempo dell'apocalisse signori guai se noi che crediamo nella presenza della regia della pace ci facessimo condizionare da questo clima generale che paralizza che paralizza e che disarma cioè il clima della paura dobbiamo avere la consapevolezza della presenza della Madonna che in questi anni ha preparato un piano di salvezza noi siamo una parte attiva e decisiva di questo piano dobbiamo essere forti nella fede costanti della preghiera decisi di aiutare il prossimo la Madonna ci aiuterà e ci proteggerà se noi la ascolteremo e la seguiremo quindi stiamo attenti cari amici a non cadere nell'inganno satanico come ci ha detto la Madonna a suo tempo che Satra vuoi riempire i nostri cuori di paura cari amici e Satra vuoi riempire i nostri cuori di paura del futuro ma il futuro è di Dio ci ha detto la Madonna cioè nelle sue mani è il tempo dell'apocalisse è il tempo in cui Dio ha in mano tutto perché ha deciso che le potenze del male che stanno sferrando l'attacco decisivo vengono distrutte e il mondo abbia un tempo di pace c'è anche ovviamente un'altra lettera che mi è arrivata l'ho pubblicata anche questa di Isabella ma la leggo perché credo che rappresenti un po' la psicologia di molti caro padre Livio mi scuso in anticipo se quello che scriverò la disturberà ma è solo perché io vorrei capire quando la Madonna dice che il suo cuore immagrato trionferà cosa intende perché io ho letto molte profezie di Santi tra cui Sor Maria Aiello o basta leggere il terzo segreto di Fatima per capire che cosa avverrà una frase fra tutte mi ha colpito chi morrà in vita inviderà i morti mi pare che questo sia il messaggio di Akita però il suo pensiero è ghiacciante quindi il cuore della Madonna che cosa quindi il cuore della Madonna cosa avrà da trionfare forse sulla morte la distruzione certo che finalmente non era la pace ma saremo tutti morti o quasi come quelle povere anime che rimanano in vita potranno sopravvivere punto di domanda sono molto confusa grazie mille questa Isabella è nella situazione di confusione di molti per cui gli ho dedicato qualche parola gli ho dedicato qualche parola per assicurarla e questo lo lascio anche dire a voi nel caso che abbiate intenzione di rispondere a Isabella io ho dato la mia risposta voi potete anche la vostra quindi vi indirizzo verso il blog blog di badelivio.it se usate google per entrare se invece usate il sito radomaria.it in alto a destra c'è l'icolo del blog è entrata così potete leggere la paura potete percepire perché la Isabella ha paura c'è un trionfo su che cosa su un terzo dell'umanità o più che verrà distrutto sarà il trionfo sulla morte che trionfo è dice Isabella voi guardate la mia risposta cari amici oppure fatela voi una risposta io gradisco molto i vostri interventi cari amici poi sempre sul blog ho scritto una lunga lettera molto interessante cari amici che vi invito a leggere non ho molta voglia di leggere in radio preferisco che venga letta da persone diciamo così che hanno una certa preparazione ed è la lettera di un giovane omosessuale che commenta le decisioni della chiesa tedesca di benedire le copie omosessuali fa una riflessione a mio parere molto interessante si chiama Stefano che scrive dalla Toscana ha scritto una lunga lettera di considerazioni che invito a tutti quelli che amano approfondire questo tema invito a leggere cari amici sempre sul blog io ho risposto poche righe la lettera di Stefano però anche voi potete comunque entrare in questo dibattito che è molto interessante io non ho mai toccato prima perché abbiamo c'è tanta carne al fuoco che mi manca pure quella delle decisioni della chiesa tedesca diciamo mi chiedo se non hanno altro a cui pensare lì in Germania ecco cari amici adesso vi devo dare una super bella notizia come avete visto qui c'è un nuovo libro ecco allora questo libro voglio presentarvelo in poche parole è intitolato è uscito quindi a disposizione già è intitolato la gloria di Maria nell'annuncio dei segreti attenzione attenzione al titolo la gloria di Maria si manifesta nell'annuncio dei segreti tre giorni prima perché questo annuncio tre giorni prima è la gloria di Maria perché si realizzeranno le profezie che lei farà in questi tre giorni nel medesimo tempo darà la possibilità di salvarsi chi vuole salvarsi quindi la gloria di Maria nell'annuncio dei segreti sotto titolo il segno di Međugorje illuminerà il mondo su Garco edizioni attenzione è un libro particolare ho iniziato un metodo nuovo per fare libri che sono come dei reportage quotidiani quindi troverete in questo libro proprio numerati 143 miei interventi 143 miei interventi su tutte le questioni che abbiamo toccato anche sul blog o anche nei nostri editoriali su tutte le questioni che riguardano questo cammino che stiamo facendo nel tempo dell'apocalisse sono di veri reportage sono ben 143 lunghi non più di una paginetta l'uno tutti indipendenti l'uno dall'altro io ho fatto vedere ai nostri ragazzi ne sono rimasti entusiasti questo mi fa piacere perché è ora di far entrare anche i giovani in questa dimensione è un modo nuovo per fare libri che usherò anche nel prossimo futuro perché siamo entrati o mai in tempi in cui non si può piegare due anni o tre anni perché prima un libro esca bisogna fare in fretta questo è il primo di una serie di reportage che escono uno o due volte all'anno e troverete nei prossimi libri anche alcune vostre lettere e le mie risposte dunque cari amici vi dico il titolo la gloria di maria nell'annuncio dei segreti è il titolo il sottotitolo il seno di Međugorje lumina il mondo su arco edizioni e questo libro potete già ordinarlo qui a Radio Maria con l'indirizzo email info.ita radiomaria.org entrando nel nostro sito radiomaria.it cliccando catalogo oppure telefonando all'ufficio informazioni ufficio informazioni 031 610 600 oppure il mezzo più facile ecco il blog ecco l'OSAP con l'OSAP entrate infatti il numero di OSAP di Radio Maria che è 031 610 610 e scrivete il titolo del libro basta scrivere la gloria di Maria oppure la gloria di Maria nel tempo dei segreti mettetevi il vostro nome e cognome e indirizzo mettete anche il vostro telefono questo è un libro che non solo interesserà a molti ma anche i più giovani e anche i ragazzi perché è veramente uno stile nuovo uno stile preso dai social che permette di aprire di leggere qualsiasi reportage gli uni gli autonomi dagli altri ma tutti improntati diciamo a questa realtà che è il tempo dei 10 segreti poi ovviamente potete anche ordinarlo nelle librerie specialmente quelle cattoliche poi c'è gli store online che come lo portano a casa noi vi mandiamo come sempre una bellissima crua del rosario in omaggio insieme al libro bene carissimi abbiamo terminato la nostra lettura cristiana e la cronica della storia sono qui a ringraziarvi per l'aiuto che ci state dando siamo in genere questo è il tempo da qui fino alla fine di maggio il tempo in cui riusciamo a raccogliere un po' di aiuti in particolare anche per le redomarie più povere ma ne abbiamo bisogno anche noi qui in Italia per essere operativi cari amici in questi tempi nei quali diciamo così la Madonna cerca anime circa apostoli che l'aiutino a portare a traghettare il mondo al di là di questa prova al di là del Mar Rosso e verso la terra promessa la resa dei carameci è sempre in sitonia sulla nostra dolcissima Radio Maria